Da dove arriva il nome? King Ash che sono le prime tre lettere del mio nome Il tuo nome vero è? È un segreto? Passa dal basement Passa dal basement Passa dal basement Bella raga, nuovo appuntamento Nuovo Passa dal basement Benvenuti su questo canale Se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi Questo è quello che si dice qui su Youtube Ma noi stiamo puntando a fare cose che vanno oltre la piattaforma In realtà sono molto contento perché stiamo facendo delle chiacchierate super mega interessanti La cosa a cui tenevo tanto quando ho iniziato questo viaggio Chiamiamolo così di passare dal basement Era chiacchierare con persone che hanno storie interessanti E la persona che c'è qui oggi Che adesso vedrete In realtà io faccio sempre questo preamble Ma c'è scritto perché se siamo su Youtube l'avete già letto Chi c'è? Però sono molto contento perché avevo avuto modo di conoscere Di chiacchierarci prima Non mi sono voluto spoilerare niente di particolare Perché secondo me ha una storia davvero molto interessante Che va anche oltre forse il momento che sta vivendo Perché tutto è cambiato da quando è arrivato King Ash Eccomi, eccomi, eccomi Hai già messo il coso che applaude? Aspetta, rifallo, rifallo, perdonami 3, 2, 1 Eccomi Questo è il tuo pubblico Eccomi, eccomi Tra l'altro Come ti trovi a sentire la tua voce nelle cuffie? Qualcosa che avevi già fatto nelle tue avventure? L'avevo fatto una sola volta 3 mesetti fa Però è strano comunque sentire la mia voce Cioè mi dà fastidio Ok Nel senso mi dà fastidio la mia voce Sì, fa sempre impressione Soprattutto le prime volte Tu ti risenti nelle cuffie in modo molto potente E poi adesso più penso al fatto che stia sentendo la mia voce E più la senti Più penso che la sento Anche se tu scusami Hai fatto un disco re, trap Quindi lì ti sei sentita la voce nelle cuffie No, non era così Non era per niente così Allora io faccio una premessa Super, super sincera Intanto grazie Perché sono contento che tu sia passato qui al basement Mi faceva un sacco piacere In realtà io appunto ti conosco Ho visto un po' di cose tue da tempo Grazie al buon Ricky Pedi Che ti teneva sotto osservazione Ma in realtà tutto è nato quando siamo andati A quella famosa ormai partita di beneficenza Con un sacco di amici Insomma il momento era ovviamente sociale, benefico, molto bello Ed è stato anche molto divertente Dove c'erano tanti altri amici creators Personaggi della tv, della radio, dello spettacolo e quant'altro A un certo punto arriva una persona Che inizia a dire delle cose senza senso Io devo essere sincero Ho detto C'è questo ragazzo che ha dei problemi Adesso accompagniamolo fuori Non lo so Hai avuto un modo di fare Un modo di dire A parte che eri contro i The Show Io ero lì con Geser Era preoccupato che doveva fare canestro E in più da fuori No The Show Tu sei entrato in campo Hai fatto delle robe senza senso E Ricky mi fa No ma guarda che lui sta facendo delle cose Comunque su TikTok io l'ho visto È forte di su di giù E da lì in poi sono andato a vedere Poi in realtà quando ci siamo anche incrociati Abbiamo avuto modo di parlare un attimo Si capisce che in realtà tu hai una bella testa Hai una bella testa Si sono incrociati gli sguardi Si C'è stato quel momento di tensione all'inizio Te lo ripeto Off live Io non ho paura di dire le cose che ho detto Off live in live Ok C'è una persona molto carina Ah beh Questo ti ringrazio Devo per forza dirlo Però sì è vero Ci siamo incontrati lì per quelle Avevo temuto il peggio No no Avevi detto io ho il coraggio Ho detto cazzo No no Grazie Limitiamoci alla bellezza Però è vero Sì ci eravamo incontrati in quel momento Che poi io ho organizzato il tutto Organizzato Sì È stato tutto il giorno prima Ok Cioè io non sapevo neanche di questa partita Mi è capitato a caso di vedere Ok Una storia su Instagram Che diceva Ragazzi c'è questa partita qui Di beneficenza Sì 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 È molto figo Ok Perché è una partita di beneficenza Sì certo E quindi ho detto vabbè Ci vado Non mi sono nembucato No Perché è una partita di beneficenza Quindi non si fanno queste cose Delle partite di beneficenza Però ho pagato Chiaro Ho preso Io e mio fratello Tanto costava 120 euro No non è vero No sto scherzando Erano tutte cifre che andavano in beneficenza No pensavo Che costasse 120 euro No 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 Posso dire incazzare Sì incazzare sì E niente Quindi appunto Ho fatto questa cosa qui Ho comprato i biglietti Ho detto a mio fratello Allora senti Noi domani dobbiamo fare Una cosa epica Sì Non so come verrà Sì Non so se verrà Sì Però dobbiamo andarci Perché comunque Dobbiamo per forza provarci A fare questa cosa qui Lo prendo E dico Ah oltre a mio fratello C'è un ragazzo Che si chiama James Sì Perché è un mentalista Così che ha conosciuto Lo stesso Cioè il giorno prima La stessa cosa Il giorno prima L'ho conosciuto Io ho detto Ti va ad accompagnarmi Perché comunque Avevo mio fratello Sì Però avevo bisogno Di qualcuno Che magari stesse Con me in quel momento Poi l'ho conosciuto Lì lui ha detto Ah sì Anch'io vorrei andarci Poi ho detto Andiamoci il giorno dopo Ci siamo andati Sì Io avevo una sera Madonna Stavo per Ho detto Cosa sto facendo Perché avevo preparato Cartelloni Così 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 Sì ma perché Io sono fatto così Nel senso che io Prima di fare le cose Ho un po' di Preoccupazione Però poi alla fine Mi scibutto Questo è forte Perché in realtà Quando uno ti vede all'opera Diciamo così Quindi ti vede in missione Lì non sembri Assolutamente impaurito Ti viene Perdonami il termine Un po' la faccia come il culo Nel senso che Inizi a dire cose A fare cose Completamente fuori controllo Quindi non fa pensare Che tu in realtà Prima ti poni la domanda Ma che cazzo sto facendo Ma è sempre così Ma perché comunque Io sono Cioè Come posso dire Se io Attraverso la strada Sì Io guardo a destra A sinistra Ma tipo quattro volte Cioè per dirti Magari è una cosa normale Io sono abitato a farlo Però Due dovrebbe bastare Però va bene Ma perché sono così Però poi lo faccio Poi non è che mi fermo a marcia Poi tra l'altro In quel momento In cui facevi Hai fatto quell'incursione Quell'invasione di campo E ricordo Non fate giocare Iachidale Non fate giocare Jager Cosa di questo genere In realtà Non Come dire Non avevi Cioè eri Sì seguito Ma diciamo che Poi tu successivamente Allì In un periodo Che va degli ultimi mesi Hai avuto Una grossa esposizione Una grossa crescita Di numeri Online Eccetera È effettivamente così O è una impressione Avevo all'incirca Se non mi ricordo Male Tra virgolette Avevo sui 70.000 iscritti Ok Sì 70.000 iscritti E che comunque Erano già un bel numero Era tantissimo Per me Certo Tutto ora 70.000 iscritti Per me è una cosa enorme E niente Sì Come hai detto Ho avuto Tra virgolette Questo Questo picco Di iscritti Ok Non so Quanto è 200.000 forse Una cosa del genere E Sì è successo E come te lo sei spiegato Come mai Secondo te Allora secondo me Le persone Hanno iniziato Davvero Ad apprezzare Una cosa Che non era Secondo me Quello che è Il Forse il contenuto Ma forse Quello che facevo io Perché Perché io all'inizio Prima di fare Questi video Io prima facevo Dei video tutt'altro Io facevo Vlog Ogni giorno Un giorno sì Un giorno no Per tipo 30 L'ho fatto tipo Per due mesi L'ho fatto Sì in che anno Un giorno sì Un giorno Sto parlando di due anni fa Ho fatto L'anniversario Del mio canale Sì Il 25 Quindi facevi vlog In giro Andavi in giro Lo facevo in casa Ah in casa Proprio facevo la mia Tra virgolette Non dico la delle ultime Però facevo dei vlog Di due minuti Ok In cui facevo Tipo questa cosa qui Ogni Un giorno sì Un giorno no Un giorno sì Un giorno no Per tipo due mesi Ok E come andava No Facevo 100 visualizzazioni Ok Quindi pochissimi Ma sì Ma pochissimo 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 E Poi ho detto Vabbè Comunque i vlog Non erano Cioè non ero io Nel senso di vlog Andavo lì Ah sì raga Ora ho fatto questo Però non ero io Non mi piacevano tanto Sì 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 Ho stoppato questi vlog E ho iniziato a fare Tra virgolette Quelle che erano le challenge Un po' no Mister Beast Un po' questo Un po' l'altro E quindi facevo Non lo so Taglio una cipolla Finché non piango Ok Oppure Ma le facevi sempre Col tuo stile A modo tuo O Cioè un po' Un po' fuori Un po' No sì sì Sempre Sempre io Certo Però magari Un modo un po' diverso Cioè nel senso Che comunque Non è che mi sentivo Obbligato a fare le cose Però ero lì A fare qualcosa Che non è che Mi piacesse tantissimo E quindi ho fatto Tipo questa cosa qui Da taglio le cipolle Oppure Non so Uso la penna Finché non finisce Lecco lecca lecca Per vedere quanto Cioè tutte le challenge Più assurde Che c'erano su YouTube Tutte quelle cose Che erano prese Io provavo a farle Per vedere quanto Potevo spingermi Ok E ho iniziato ad avere I primi tra virgolette Guadagnini Ok Più guadagnini In tipo tre mesi Avrò fatto tipo Sessanta euro Ok Pazzavita proprio Pazzissimo Sì 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 Ho fatto Ho deciso di fare Con quei sessanta euro Un video Che era Faccio una pizza Con cento mozzarella Ok Faccio questo video Io dico Questo a me è piaciuto Perché Perché Era una cosa Che io ho visto E nessuno L'aveva mai fatto Ed era una cosa Cioè era bello Perché comunque Io andavo lì Facevo Era un po' Un'improvvisazione Perché poi Sono uscito da casa Sono andato a incontrare Persone che io non avevo mai visto Gente con cui Non avevo mai parlato Quindi sei uscito In realtà Per la prima volta A fare i tuoi contenuti fuori All'incirca sì Più o meno sì Faccio una pizza Con cento mozzarella Lo faccio E il video va Funziona Parte Cioè tipo Era Cresceva divioso Sì Cento visualizzazioni E poi ho notato Faceva al posto di cento In ventiquattro ore Ne ha fatte tipo duemila Ok Cos'è successo Come mai Era bello Però effettivamente Mi piaceva Perché io i video Che alcune volte io guardo Non mi piacciono tanto Cioè nel senso Video miei Certo Quando un video Non mi piace Cioè io tendo sempre A dire Vabbè Lo so Non mi dico Ah no cazzo L'algoritmo di youtube Non mi vuole bene Non mi piace il video a me Figurati se piace agli altri Perché dovrebbe farlo Questo è vero E basta E quindi mi è piaciuto Ma come cazzo si fa una pizza Con cento mozzarella Non si fa Non è possibile Ho aperto Mozzarella Non è possibile fare la pizza Con cento mozzarella Questo mi sembrava Tra l'altro appunto In questo periodo Di crescita Anche di canale Eccetera Hanno iniziato A conoscerti Anche gli altri creators A tenerti d'occhio Io immagino che tu Molte persone le seguissi Tu sei Sei un grande Usufruitore di youtube O comunque anche Immagino Tu guardi youtube Guardi la televisione Io guardo molto youtube Ok Molto 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 Cioè io sono Per me guardare la televisione Non è più guardare la tv Ma guardare youtube Ok Cioè nel senso Preferisco guardare Un Tre video su youtube Che un video interno Cioè tre video da Non so Venti minuti Che magari un film O mezza puntata di serie O qualcosa Mi piace di più Quindi la tv Quella classica Proprio non l'accendi neanche Non sai neanche No no Vabbè sì Guardo molti canali Real time Guardo un sacco di cose Che mi piacciono E basta D-Max Di D-Max Che io faccio un programma Su D-Max Che poi ho visto anche Che mi sei uscito La scorsa volta Su D-Louisit Ho detto Ah sì È lui È lui È lui È lui È lui È quello fa molto ridere Questo è molto Quello è un format Che anche su youtube Funzionerebbe Funzionare molto È molto È vero È tutto vero La cosa incredibile Che D-Louisit È tutto vero Cioè anche gli scherzi Le cose Le reazioni delle persone Sono tutte vere Pazzesco Pazzesco Poi i soldi però Il problema È che gli ho dovuti dare io Non si sa Ma è l'ospite Che dà gli ospiti I soldi No non è vero Questo non è vero Stavo per dirti Fammi andare lì Adesso ho scoperto Stavo per Quello non è vero Lo dicevo La figata è stato Che appunto Hai avuto questo Grande espluato di crescita Hanno iniziato a tenerti Tra virgolette A guardarti anche Gli altri youtuber Che probabilmente Tu stesso ammiravi Arriva un momento In cui c'è un evento In cui vengo invitato da Disney A partecipare Per l'uscita di Dottor Strange Andiamo con Ricchi E dico Ma chissà se c'è O Ricchi mi fa Chissà se c'è anche King Ash E io gli dico Ma figurati se Disney Invita King Ash Ma non per te Ma perché sei Una mina vagante Potrebbe succedere Qualsiasi cosa Perché magari uno Non ti conosce Poi invece parlandoti Sei un ragazzo Tranquillissimo Però se uno vede il tuo video Quello era un mio pensiero E beh lì ho scoperto Che è arrivato prima Yaki Yaki Dale Ti ha portato lui E ti ha accompagnato Tipo in quella situazione lì Io vedevo Ti osservavo un po' E vedevo che eri Non dico imbarazzato Però Però un po' sì Però un po' sì Allora Perché c'era Cioè lo spiego Per chi non lo sapesse È un'anteprima Se questa cosa capita spesso Ci sono degli anteprime Di alcuni film In cui vengono invitati Tanti personaggi Della televisione Della radio Dello spettacolo Della musica E soprattutto anche Tanti personaggi del web E quindi eri in un contesto Tra l'altro a quelli dei Disney Partecipano veramente tante persone E quindi io ti vedevo In quel contesto lì Pensavo che magari Fino a Ma un mese prima Probabilmente Eri completamente In un altro contesto E cercavo di immaginare Come ti stavi sentendo E com'era? Allora E le sensazioni che posso Ricordare Sono innanzitutto Non dico paura Ma più che altro Imbarazzo Ah vedi? Ok questo sì Imbarazzo Però allo stesso tempo Era gasatissimo Ok Perché comunque È vero Io due mesi fa Letteralmente parliamo di due mesi Io due mesi fa Non mi aspettavo No Non mi sarei mai aspettato Di trovarmi Di trovarmi Magari o comunque a parlare O conversare O comunque semplicemente Avere una conversazione Testuale Su Instagram Per dirti E quindi per me è stato Tra virgolette Un po' diverso Ok Mood diverso Cambiamenti vari Di persone che li so conoscere Di qua Io mi ricordo Stavo parlando con Fabio Con Rovazzi E tu in quel momento Ti stavi andando a sedere E lui Ti ha detto qualcosa Sì Ti è venuto a parlare E ho detto Comunque È stato bello Qual è la cosa Che ti ha colpito di più Fino adesso forse La cosa che mi ha colpito Di più fino adesso La cosa che mi ha colpito Qualcuno che magari Ti ha detto qualcosa E non te l'aspettavi O hai conosciuto qualcuno Che non credevi Sì Posso dirti che Tipo Un sacco di persone Che magari avevo scritto Io non mi ricordo neanche Di avergli scritto Ma parliamo anche Per gli ricordi di Rovazzi Non lo so Sì Fede Comunque Cioè comunque Giocatori di calcio O comunque qualcuno Magari avevo risposto A una storia vecchissima Tu gli avevi risposto A una storia Avevo magari Staccato in una storia O qualcosa Sì E poi tipo Mi ritrovo La notifica Ah sì Ciao Io Ma Che cazzo fai Ma ti ricordi uno In particolare Che ti ha colpito Uno che mi ha colpito È stato Posso dire Rovazzi Rovazzi Sì Ok Quello ti ha fatto impressione Mi ha fatto impressione Perché con lui vi siete anche iscritti Sì Ah Ok Aspetta Frank Matano Che mi ha commentato un tiktok Sì Quello ti ha steso Quello mi ha ammazzato Com'è andata Ti ricordi Sì sì No ero lì Stavo controllando le notifiche Mi arrivano notifiche Ma non so come mai tiktok Alcune volte manda notifiche a caso Quando capisce forse Che è una cosa che può Che può emozionarti Che può interessare magari Vedo vado a vedere Frank Cazzo Frank Frank Matano Ossia è proprio lui Lo vedo E ero gazzatissimo Dico cazzo c'è Frank Matano Che mi ha commentato il video Vuol dire che comunque Ho una minima idea Sa chi sono Ed è bello Perché comunque io Mi ricordo che con i miei genitori Quando ero piccolino Proprio ai tempi Magari in cui Lui era un pochino esploso Su Youtube Eccetera Ci mettevamo lì E Mentre mangiavamo Guardavamo i suoi video Cioè proprio guardavamo i suoi video Poi quando l'ho detto a mio papà Mi fa Ah ma Ma chi è Frank Matano? Adesso ti spiego Ti dicono Ti ricordi quello che Ah sì Ve lo ricordo E basta E poi io l'ho detto No sì Questa Sì tra tutte ti posso dire Questa è la sensazione migliore Che ti ha dato Tu in realtà sei di origine? Egiziana Egiziana Ma nato in Egitto? Sono nato in Egitto Ok Quindi con tutta la tua famiglia Vivevate in Egitto? Io sono il primo genito Poi appunto Mio papà è venuto qua in Italia Quando Non so È molto giovane Comunque è venuto qua Poi è riuscito appunto A farci venire Sia me che mia mamma Dall'Italia Dall'Egitto Ma quando avevo 8-9 mesi Eccetera Ah quindi piccoli Tu sei arrivato qua Cioè tutti i tuoi ricordi Sono legati all'Italia Sì 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 Tantissimi E poi i miei fratelli invece Sono tutti nati qua Quanti siete scusa Noi siamo in totale sette Cinque più due Cinque più mamma e papà Una famiglia di sette persone Sì E tu sei il più grande Sì Quindi ragazzi Kingash è l'esempio Quindi voi pensate adesso Al resto della famiglia Sono qua Scherzo ovviamente Sto scherzando No 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 È nulla E quindi Cioè appunto Sono nati tutti qua Certo E loro No cosa Sì Loro sono nati tutti qua Io invece no Sono l'unico che tra virgolette È nato in Egitto Però sono venuto Con dieci mesi Tu sei l'unico Made in Egitto Sì Sono l'unico Real made in Egitto Dove? Sì Mansura A Mansura Vicino Vicino Sì Ma ci sei tornato in vacanza Sì sì A voglia Sì sì Ci andiamo qualche volta Non ci andiamo più da tanti anni Perché comunque Per problemi cove Tu ci scherzi molto Su questa cosa Dell'essere egiziano È bello È bello Allora Non posso fare le battute Se comunque Non lo so È come se mi desse Tra virgolette Un po' Qualcosa in più da dire Come un superpotere Sì Guarda I miei cugini in Egitto Non hanno Youtube Gli mando i miei video Quando magari mi dicono Ma perché stai filmando? Ma non è per Youtube Perché poi li edito E li mando A casa Allora Ok Vabbè Vabbè Io sono una persona che suda molto Sì tranquillo Spero che sia buon segno No 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 Anzi Ragazzi poi metteremo su Ebay Sappiate il fazzoletto Con cui King Ash Si è soffiato il naso E ha asciugato il sudore Fa parte del merchandising Tanto è spinto da subito Al merchandising di King Ash Allora Io sono dell'idea che Se non metto il mio merch Per primo Lo farà qualcun altro No no Chi lo mette Ah certo Cioè se devo dare Alla fine Io non sono una persona Che spende tanto in vestiti Mai Cioè proprio Non sono una persona Ho quei 4-5-6 capi Che mi piace mettere Li metto Ok Ok E metto solo quelli La cosa del merch Perché Perché io vedevo magari È una cosa stupidissima Però per dirvi Anche la taglia Sì Io alcune volte Non trovavo la mia taglia Ok Ok Dopo non aver trovato la mia taglia Dicevo Ah cazzo Perché non c'è la mia taglia Quindi Nel mio merch ovviamente Taglie big size Anche 7x Non c'è nessun problema Sì Per tutti i prodotti No però Poi ti scherzi E niente Quindi l'idea Tra virgolette È creata Da questa cosa qui Che poi ampliata È stata creare qualcosa Da dare alle persone Oltre alla visualizzazione Perché secondo me Una visualizzazione È È poco concreto Non so come dirtelo È come tipo Se tu andassi Ok Ascolti la canzone di Spotify Molto figo Però comunque Cioè Ascolti Spotify Va bene Ok Non compri poi invece Il disco Il fisico E a me piacerebbe più Comprare il fisico Che ascoltare solo la canzone di Spotify Se mi piace davvero Quell'artista E per sentirti parte di quella cosa lì Per sentirti parte di un movimento E tu in questo caso Il movimento del Kig È bello sentito Cioè A me è impressionato Anche quando Ho visto Forse hai fatto qualcosa per Muschio Per Muschio Selvaggio Hai fatto l'inviato Qualcosa eccetera Sì Avevo fatto qualche domanda Ho visto un po' di persone Che nei commenti Erano contente per te Come se quello fosse Una sorta di Di obiettivo O comunque qualcosa Un passo sicuramente in più Per cui le persone Quindi nutrono affetto per te Oltre a seguirti Per Perché magari gli fai ridere Allora io Le fai ridere Quando ci penso a queste cose qua Mi viene la pelle d'oca Quasi alcune volte Allora io Innanzitutto Prima di ringraziare Me stesso Le persone che mi seguono Credo che il ringraziamento Più grande Va da Dio Perché mi ha Letteralmente spostato Da una posizione Che io non mi sarei mai immaginato All'essere amato Per un qualcosa Che alla fin fine Non è un Cioè Come te lo dico I miei video non sono Vado a spendere Centomila euro Diecimila euro di scarpe Trollo un dipendente Della Decathlon Cioè comunque sono delle cose Quindi lui ha dato La possibilità alle persone Di amarmi Per quello che sto facendo Non so come dirtelo È bello Io alcune volte me lo dimentico Sono un coglione Si può dire come Sono un coglione A dire questa cosa qui Però è davvero Io alcune volte me lo dimentico Ok Credo che sia la forza Più grande Dappertutto Che Dio mi abbia permesso Questa cosa qui Di essere tra virgolette Un po' Piaciuto Tra virgolette Ma per quello che sono io Per quello che è Per essere Non so come dire Te stesso Sì Una persona semplice Non so È così Sono felice Sei molto Sei religioso Sei molto Cioè credi Credo Sì credo molto Sei musulmano Non so Sì 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 Che stiamo parlando È figo Perché c'era un periodo In cui io Io stavo in Bulgaria No? I tempi Per studi Eccetera Io mi ricordavo Allora io facevo Un'ora e mezza Di camminata Da casa mia All'aeroporto All'aeroporto Sì Alla stazione dell'autobus Quando c'era tipo Meno 22 gradi Meno 22 Quanti anni avevi? No ma sto parlando L'anno scorso Cioè Cinque mesi fa Già Quattro mesi fa Proprio Facevo Le passe Perché non c'era un autobus Non c'era nulla Che mi portasse in aeroporto Perché io venivo in Italia Mi ero messo l'obiettivo Di risparmiare tantissimo Le soldi che i miei genitori Mi mandavano Eccetera Le soldi che magari Mi entravano Dalle piccolissime cose Che facevo raramente O magari da Youtube Eccetera Per venire Una settimana sì E una settimana no in Italia Per registrare Venerdì, sabato e domenica E poi ritornarmene Venerdì, sabato e domenica E poi ritornarmi E l'ho fatto per tipo Due o tre volte Quindi Ce ne hai messo Grande dedizione Determinazione In questa cosa qui Sì Io sono sicuro Al cento per cento Lo so benissimo Cioè Allora Non so come dirtelo Però Cioè Si è sempre Sentito dire Di tipo Ah sì Devi Non so Tipo Devi rincorrere I tuoi sogni Devi lavorare Devi ingranare Devi fare questo Devi fare l'altro Ok E io non me ne Sono reso conto Fino a quel momento Cioè io mi ricordo Proprio quella volta In cui stavo passeggiando Il video ce l'avevo L'ho cancellato Perché ho cancellato Tutti i video Che avevo sul telefono Perché io edito Il registro dal telefono Ai tempi Lo facevo Quindi non avevo neanche spazio Per mantenere anche i miei ricordi E io mi ricordavo Di questa cosa qui E dico Cazzo Nella mia mente era Lo faccio Perché poi Io sono sicuro che comunque Il lavoro verrà ripagato In un modo o nell'altro Viene ripagato Perché se non è qua Sarà dopo Se non è adesso Sarà tra un mese Se non è tra un mese Tra due Tra tre Tra quattro Tra cinque Tra sei Però arriverà quel periodo Ed è stato molto figo Perché poi appunto Quando una volta Quando ho fatto tipo I centomila iscritti La live eccetera Io in quel momento Quando ho fatto i centomila iscritti Mi sto ricordato di quel Di quel momento lì In cui stavo camminando E io parlavo tra me e me E dicevo Ma chi cazzo me lo fa fare Cioè io sto facendo Io sto studiando Si sto studiando medicina Sto facendo questo Sto facendo l'altro E in più Però al posto di miei compagni Al posto di questo Vado Cioè comunque Andavo una settimana All'università E poi comunque C'era tra virgolette Un po' il riposo Tra virgolette No C'era settimana All'università E tu vedevi Vedevi l'obiettivo In quel momento Cioè tu volevi arrivare A un obiettivo Volevo arrivare all'obiettivo Che era piccolo Si Ok Però era Un obiettivo che volevo fare Questo secondo me È un passaggio super Perché Sei anche nel tuo caso La dimostrazione Poi come abbiamo detto Io ti auguro di fare un miliardo di cose Adesso è forse solo l'inizio Di qualcosa Che spero che tu possa riuscire a fare Però è figo far vedere anche Che quello che ti è successo Negli ultimi mesi Non è casuale Cioè non è che per caso Tu c'è stato tutto questo Tra l'altro hai detto due cose No innanzitutto Questa tua determinazione eccetera Secondo te da dove ti arriva C'è qualcosa Hai voglia di un riscatto Hai voglia di Da mio papà Ok Lo vedo molto mio papà E anche Più che mio papà Nella mia famiglia Proprio nei miei genitori Sì Che lo vedo tantissimo Cioè alcune volte Io proprio chiedo A mio papà Ma tu C'è il senso Ritorni Vai a fare questo Vai a fare l'altro Vai a fare l'altro Quasi t'ammazzi Di lavoro Però poi ritorni C'è quella cosa lì Che dici Ah ok Comunque vado al parco Con mia moglie E i miei figli Perché comunque Li devo dedicare quel tempo E non è stanco Quindi ogni volta Che magari nella mia mente Era Sì Voglio fare questo Voglio fare l'altro No non c'ho voglia Mi ricordo Perché Cioè lui che ha Il quadro dei miei anni Lo fa Io che ho 19 anni No Lo faccio Cioè capito Ogni volta che mi viene Quella Cosa in menti Che mi dice No zio Ti devi oggi Hai già postato Abbassare Già fatto abbassare Già fatto questo Già fatto questo Lo faccio anche senza voglia Perché sai che lo devi fare Lo devi per forza fare E te l'ho detto Al tempo Come tuttora Non è mai stata una cosa Che io ti dico Cazzo Sì c'era la Concretezza No non esiste Non c'è Non c'è Chi fa queste cose Io mi ci rivedo In quello che è stato Il mio percorso L'ho raccontato tante volte Qui in altri momenti E' quella roba lì Cioè tu non vedi Tu vedi solo dove vuoi andare Il tuo obiettivo E non devi guardare in basso Che in basso vuol dire Insomma Vedere le possibilità Che ci sono Di non farcela Perché se inizi a vedere quelle E' finito Tu vedi solo dritto Che sono quelle che Le possibilità che puoi farcela E così in qualche modo Poi alla fine Ce la fai Alcune volte arriva Ci sono sempre Stati dei momenti bassissimi In cui Non dico Ho mollato Però sono caduto Ma anche un po' Tutto Cioè Anche un po' Adesso molta più ansia Sicuramente No Prima comunque Non davo tanto peso Alle cose che facevo Non davo tanto peso Alla cosa che sarei andato a fare Perché tanto lo facevo per Cioè comunque per me Era O Sì Comunque avevo Un po' di certezza Che era Non so Comunque andavo all'università Andavo là Quindi Un piano B Posso dirlo Un po' ce l'avevo Adesso invece appunto Per questioni di documenti E problemi vari Perché non ho la cittadinanza Cioè tutta la mia famiglia C'ha la cittadinanza Ma infatti questa cosa E io no Ma in che senso Perché Per una questione di covid Cioè nel senso Tutta la mia famiglia ce l'ha Cioè sia i tuoi genitori Che i tuoi fratelli Tutti Hanno la cittadinanza Italiana tranne te E io no E io no Ma questa cosa qui mi fa un po' Non dico arrabbiare Però Cioè Un po' miratristi Tiratrista Tiratrista Sono triste perché Cazzo Perché Cioè Io Letteralmente Sono qua da quando avevo Otto mesi Cioè E quindi io automaticamente Dovevo riceverla Io compro gli anni Il 10 di febbraio Ok Lei Doveva prenderla Prima del 10 di febbraio Sì Per il mio 16 Lei l'ha presa appunto Prima del mio 18esimo Di un mesetto Il decreto è arrivato Prima Però poi Hanno chiesto il giuramento E tutto Quindi è passato del tempo Per un mese E quel mese A te ti ha fatto Poi avere 18 anni E non ho Non ho fatto nulla E ho fatto richiesta Di cittadinanza Però poi Devi aspettare per forza 4 anni Eccetera Eccetera Quindi è proprio Una questione burocratica Ancora 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 peggiore Ma non lo so C'hai capito Letteralmente per un mese Poi non è che tu dici Ah sì È venuto È solo una cosa burocratica Tu non devi richiedere Non devi fare Cioè adesso Perché ho già presentato La domanda da capo E io adesso Come se stessi presentato Da zero È come se tipo Fossi una nuova persona Venuta in Italia Una persona che è venuta In Italia un anno fa E io Che ci sono da 8 mesi Non c'è differenza O magari Speriamo adesso L'hai detto Ci bustano Attenzione Guarda Non so A chi si Bisogna rivolgersi A chi si Al capo Al capo De Come si dice Della questura di Milano È il capo Delle cittadinanze italiane Per favore Sono qua Mario Draghi Signor Mario Draghi Noi ci appelliamo a lei So che ha altri problemi In questo momento Anche particolarmente grandi Ma King Ash Ma in realtà King Ash in questo momento Ha anche la possibilità E la voce per dirlo In questo momento del pubblico Ma ci sono probabilmente Tante altre persone Che ovviamente Ne hanno diritto E che in questo momento Magari non riescono ad averle Per dei motivi Che sono probabilmente Futili in alcuni casi Però magari è così Sai Oltre Quando arrivi a un milione Di iscritti Ti arrivano Con il play button Un milione di iscritti Ti arriva pure questo Dopo il badge di Instagram E il button di YouTube Ti arriva anche la cittadinanza No ma me l'hanno detto Ci sono delle voci che girano Sì è così Adesso Non so se adesso A Cabilame Che aveva un problema simile Ah ok Su qualche documento Non so se l'hanno risolta Ah no no L'hanno risolta In qualche modo No perché poi Nel caso di Cabil Era diventato particolare Proprio perché poi Veniva usata questa cosa In alcuni casi Forse anche un po' strumentalizzata E addirittura poi va a perdere In realtà L'impatto che aveva Giustamente anche il suo Anche il suo messaggio Quindi spero che tu riesca A risolvere Benamente questa roba Comunque prima hai detto Due robe clamorose Che sono Ero a In Bulgaria E stavo studiando medicina Cioè queste sono due cose Che cazzo vuol dire Cioè tu studi medicina Cosa cazzo sta succedendo Tu sei un dottore Cioè vuoi fare il dottore Sì Ok È stato sempre Il fatto di aiutare L'altra persona Ma dai L'obiettivo è sempre È sempre lo stesso Cioè lo ripeto E lo ripeterò all'infinito Cioè Con medicina Con youtube Con tiktok Con l'idraulico Sì Comunque L'obiettivo è sempre Appunto Quello di aiutare Quelle che Le persone che mi circondano Nel senso La mia famiglia Certo Mio fratello Mio miglior amico Tutti Cioè È quello l'obiettivo finale Tu la senti molto Questa cosa Della famiglia Della tua famiglia Cioè come Come vivono Questa situazione Tu che fai i video Tu che fai Ricordo che la prima volta Ci siamo sentiti Mi hai detto No Facciamo pomeriggio Perché devo aspettare Mio fratello Che esce da scuola Per fare i video Giusto Sì Perché lui esce da scuola Poi Quanti anni hanno I tuoi fratelli Allora io ho 20 anni Ok Mia sorella Ne ha 18 Sì Mio fratello Ne ha 17 Sì Poi Adesso magari Mi ammazza Mio fratello Perché non mi ricordo E ne ha 15 Ok Va bene 14 15 E poi l'altro Ne ha 6 Ok Madonna Un po' un livello È tosta insomma Tanto Però Anche perché vivete tutti in casa Insieme immagino Sì Appunto per questo Uno dei miei più grandi obiettivi È quello di comprare una casa Grande Bella Figa Sì Che proprio Sia una Io dico Ah cazzo È figa Faccio questo Faccio l'altro Non so Cioè il mio obiettivo più grande Spero di riuscire Per la tua famiglia ovviamente Sì Sì Ma io Vabbè tu stai dentro anche tu A quel punto Sì Tanto sono là Ma credi che questo Anche il fatto delle tue origini E questo percorso Anche della tua famiglia Eccetera Ti abbia dato il boost in più Per fare le cose che fai Sì Sicuramente sì Sicuramente All'inizio non era così All'inizio magari non è che la vedevo Come cosa negativa Nel senso Bisogna secondo me Cogliere il momento E saperlo Non so come dire E saperlo utilizzare Non so se si può dire in questo modo Cioè che tu prendi Il Il Cosa E dici Ah Ok Non vedo più Ah sì dai Mi dai 10 euro Mi dai 20 euro Mi dai 30 Mi dai 50 euro Mi dai questo Mi dai l'altro Ma capisci che Ah cazzo Lui prima di darti questo Fa questo Certo Lui prima di darti questo Fa questo Lei prima di fare questo Fa questo E quindi un po' inizi a comprendere Quella che è tutta la famiglia La situazione Come posso dire Inizi un po' a crescere Cioè si può dire Che poi non si cresce mai Però inizi un po' a capire Come sta andando davvero il mondo Ma comunque abiti in una situazione O stai in una situazione Che tu avevi magari tutto Preso Non ti è mai mancato nulla Non ti è mai questo Però non ti eri mai chiesto il motivo Ah come fanno Cioè come Come cazzo fanno Non puoi E poi inizi a capire come gira il mondo Capisci che bisogna lavorare E capisci che ti devi fare tanto il culo Sì Tanto Ma scusami Quindi come è andata con gli studi in Bulgaria Ecco E cosa è successo Io ero lì in Bulgaria Stavo Perché in Bulgaria C'è un istituto Allora sì Perché io volevo studiare in inglese Perché io volevo Ho detto Ah beh cazzo Studio in inglese Mi dà una roba molto più fila Comunque studiare in inglese British accent E cose così E quindi Ho deciso Ho detto Vabbè al posto di farlo magari in Italia Lo faccio lì Perché in Bulgaria Mi potevo anche scegliere Lussembur Certo Era quella meno costosa Era la più economica Tra le università Tra virgolette europee Anche vitto alloggio Ok Era tutto così Ho detto Ah bene A posto Vado là E decido di andare Sto lì Vado Con il mio inquilino Francesco Un saluto Mi manchi Che è ancora lì in Bulgaria Sì Ancora lì in Bulgaria Con il mio computer E i miei vestiti E tutto Adesso Francesco È in prigione Ci sta guardando La sua ora libera È lì Adesso Che ci fissa Oh ciao Lasce No E niente Quindi appunto Vado all'università Vado Faccio Conosco Molte persone Elia Sì E viene il momento In cui Io decido appunto L'ho già fatto una volta Due volte Per partire Per venire in Italia Per fare i video Per fare i video E lo rifaccio E vado Perché lì non gli facevi video Perché dici Dovevi venire qui Io lì Non mi trovavo bene Non ti trovavi bene Ero mentalmente Non ne respirato Non ne respiravo Poi mi passava la voglia Di fare tutto Ma non so Comunque forse Non lo so Allontanamento della famiglia Comunque il mood Non c'era Non so Ero lì per qualcos'altro Non mi piaceva tanto Esperienza Sì ho detto Vengo in Italia Ma perché io i video Cioè volevo interagire Con le persone E quindi volevo fare in Italia Cioè io parlo in Italia Non posso andare a parlare In vulgar o inglese Non è la stessa cosa Decido di ritornare in Italia Registro Perché c'era la settimana online Quindi sto una settimana Non più un weekend Ma una settimana intera E io in questa settimana Una settimana Era nove giorni E in nove giorni Avemo registrato ogni giorno Io e mio fratello Perché appunto io andavo Lì registravo Per tre giorni consecutivi Quindi un video O anche due video al giorno Editavo E poi ce l'avevo Cioè ero in avanti Di due o tre mesi E No un mese No due mesi È stato il massimo Faccio questa cosa qui Stanchissimi Ogni volta che vado a dormire A mio fratello Anche adesso Te l'ho detto Perché adesso non ho fatto nulla Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Cazzo Tranquillo Ce la dobbiamo fare Tranquillo Ce la dobbiamo fare Cioè ve lo dicevate proprio Sì prima di dormire Ma anche proprio Letteralmente stasera Ce lo diremo Come sempre Ma perché così Perché se non ci motiviamo Con tuo fratello quello subito Più piccolo di te C'è mia sorella Poi ce la dobbiamo fare Sì comunque 17 anni Sì E faccio Dai ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Cazzo Va bene Ciao E quindi ho avuto Il supporto da parte Di mio fratello Per quello che è Chi ci crede di più Chi ci crede di più Ci credeva di più In quel momento Chi ci crede Tutto ora Chi ci crede di più Tutti Tutti Non posso dirti Però tuo fratello Gli diceva Ce la faremo Ce la faremo E tu gli dicevi Ce la faremo Ce la faremo Sì E appunto Oltre a mio fratello Questo uomo Lui Andrea Il prossimo acquisto Dei Los Angeles Lakers Il prossimo acquisto Dei Los Angeles Il nuovo Lebron James Bianco Bianco Il nuovo Alex Caruso Il nuovo Alex Caruso Un po' più basso Ok Però sempre Lui Sì E lui è il tuo migliore amico Sì Da tempi Da quanto Da quanti anni No E tu dicevi Ce la farai Tu sentivi Che ce l'avrebbe fatta Tutto ora Io Tutto ora Lui si incazza Con me Sì Perché alcune volte Mi partono i black Proprio Mentre la black Mi faccio No bro Basta È finito Perché adesso succede Un'altra cosa Ora Cioè ora Hai avuto questo botto Ora arriva la parte più difficile Che è quello Di mantenere questa cosa qui È vero Di mantenere il gioco Perché come Casi come il tuo Magari ce ne sono stati Tanti altri Di persone che Non ci sono più Non che sono morte Per carità Ho capito Ho capito Quello che ho intendo Quindi arriva la parte più difficile E in questo caso Come la stai vivendo? Allora Che è la parte più difficile Concordo Ok concordo tantissimo Che sia la parte più difficile Perché Perché C'è sempre questa Pressione Perché sono stupido io Perché io mi faccio prendere un sacco Dalle Dalle paure Dalle E quindi appunto Ho questo overthink Ho questa cosa qui Che alcune volte Ti fai un sacco di menate Che in questo periodo È molto È tantissimo Ok Io non voglio passare per il figo Della situazione Che dici Ah sì sì Che poi fingi Dici ah sì no Va tutto bene È felice Sì sono qua Cazzo Ho fatto questa esperienza Figa Sono andato a fare questo Per Netflix Sono andato per fare questo Per questo No Io le cose le dico Certo E poi sarà Dio ad aiutarmi Ok E quindi io Letteralmente Forse in questo periodo Sto passando al periodo Più difficile Che ho mai passato Mentalmente Ok È il più difficile In assoluto Ok Per dirti Per motivarmi Oltre a lui A mio fratello E ai miei genitori Sì Guardo Guardo Instagram Youtube Ci sono tutti i video motivazionali Sì Tutte le robe Che dice Stop overthink Stop doing this Go to hard work E io Ok ok vado a fare Vado a fare Due minuti e ritorno uguale No eh È così Ho bisogno che qualcuno mi aiuti Ovviamente Ci sono un sacco di persone Magari adesso non ho nominato Eccetera Un sacco Che ti danno una mano Sì che mi danno una mano Ma qual è Qual è la tua paura più grande adesso Di perdere Quello che hai fatto finora No 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 Perdere quello che ho fatto finora Non ho paura di questo Ho paura Non so come dirtelo Forse la cosa Più adeguata Che ti potrei dire Avvicinandomi a questo discorso È La paura di Non Non essere me stesso Cioè non so come dirtelo Di magari pensare troppo A fare le cose Per bene Che poi perde quella Genuità Quello che ero io No Perché comunque poi C'è una frase che è fantastica Che dici tipo Così dice Cioè parte fa proprio Sempre Sempre nelle frate di motivazione Di inizio Parte fa E poi inizia E poi dice Ok Anche se è il periodo più bello della tua vita Il periodo più bello della tua vita Prima o poi passa Io sto aspettando che passi Sì Speriamo Perché passa non vuol dire che poi da positivo diventa negativo Da negativo diventa positivo Però si assesta Che ci sia una tranquillità Un equilibrio Sì 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 Quindi adesso Cioè praticamente nel concreto Prima di fare un video Adesso ti fai tanti pensieri Su che video fare Perché sai che ci sono delle persone Che si aspettano da te qualcosa Sì 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 Più che altro Non è più che altro delle persone Più che altro È che io mi aspetto da me stesso qualcosa in più Cioè non so come dire È come se tipo io entrassi in una realtà nuova Ok Che quindi io dopo questa realtà Devo dire Cazzo Devo fare questo Devo fare questo Devo fare quell'altro Devo fare quell'altro Che poi è sbagliatissimo Ok Però anche se le persone mi dicono che è sbagliato Io comunque rimango dell'idea E ma sai che E quindi per me Continua ad esserci questo dubbio Questa cosa qui Questa cosa che poi Io te l'ho detto Sono una persona molto stupida Perché basta guardare Anche solo Quella volta Ad essere grato Della persona che mi ferma Magari una volta Per dirmi Facciamo una foto Sei fantastico Sei bellissimo Però alcune volte Non me ne rendo conto E quindi sono stupido E vado a A deprimermi A dire no Però è normale Vedrai che insomma Tutto sto mondo qui È veramente un ottovolante Cioè ci sono dei momenti In cui ti sentirai Dio sceso in terra E dei momenti In cui invece Ti sentirai ovviamente giù La cosa che secondo me Ti servirà È del motivo per cui Però proprio consiglio Così Cioè non consiglio Anche ascoltandoti adesso È che ti sei fatto Talmente tanto il culo E ricordarti Da dove vieni Da quello che hai vissuto Fino ad oggi Non ti farà mai Come dire Svalvolare Cioè quello ti servirà Anche contornarti Sempre di amici I tuoi amici storici Di cui Ti sei sempre fidato Quello ti farà restare Sempre te stesso E poi il resto Come dici tu Passa Viene Fa Ma Mi sembri bello Bello dritto Perché c'è una cosa Che dice sempre mia mamma Ogni volta che gli dico Questa cosa qui E mi fa Allora Avere paura Perché anche queste Cazzo di video motivazionali Non devi avere paura Non devi avere questo Devi andare avanti Invece Mia mamma mi dice Avere paura è giusto Perché ti fa fare le cose Bene Non avere paura Potrebbe essere Sì giusto Ma allo stesso tempo Potreste avere più rischi Perché se non hai paura Fai più errori Fai più cose Che con la paura Non faresti E quindi mi dici sempre Ma avere paura è normale Avere paura Va più che bene Io dico Ok grazie E quindi io Trasformerò questa cazzo di cosa In qualcosa che mi sprona ancora di più Ok Adesso ci sto lavorando Cioè anche questa cosa qui Mi piace parlare Perché mi casa Cioè comunque Quando poi sei circondato Te l'ho detto Perché a me non piace tanto Stare sempre da solo E quindi io cerco sempre Di circondarmi Anche solo con mio fratello O con il mio miglior amico Adesso lì si fa Un sacco di strada Perché lui è fuori Milano Ok Ok Un sacco di strada Per venire da Dove sta lui Non lo dico perché Magari poi Poi vanno sotto casa I Lakers Ricordiamo I petardi E viene a stare qua vicino a me Per parlare Per anche semplicemente Per avere quella piccola conversazione E come vi siete conosciuti voi Se abitate lontano A scuola Ah a scuola A scuola Ok A scuola a Milano E ci siamo conosciti a scuola E da lì poi E via Eh sì Te l'ho detto Ringrazio sempre il cielo Per avermi messo su questa strada Ce li hai degli obiettivi Pratici Al di là insomma Della cosa molto bella Che hai detto prima Anche di quello che ambisci Anche per i tuoi genitori Per la tua famiglia eccetera Hai delle cose Dei pallini Delle robe che ti piacerebbe fare Che vorresti fare Persone che vorresti conoscere O con cui fare cose Eh Io vorrei tantissimo Conoscere Kevin Hart Kevin Hart Porca miseria Davvero Ma va Morirei Ok Ok Morirei tantissimo E una Delle altre Ma perché c'è Perché ti fa ridere Kevin Hart È fantastico No è fantastico Perché comunque lui Cioè Non so se tu sai Ma suo padre Era tipo in prigione Si è una storia pazzesca Oddio Vai vai tranquillo Quando parli del papà di Kevin Hart Succede 2000 euro Tranquillo Non te li devo dare No ho preso quei soldi Beneficenza dell'evento Le ho rubati Vabbè No c'era lei Stai scherzando Stai scherzando Poi off camera Vabbè Vabbè No E quindi no Figa Non posso dire Sì Vabbè Lo guardo Ti piace perché ha una storia Sì mi piace la storia Eh no Quello è bello Mi piace la storia e la continuità Quindi ti piacerebbe fare una cosa Cioè Conoscere Kevin Hart Sì Conoscere Kevin Hart sarebbe fantastico Quindi se qua amici Che fate la comunicazione Salve Se esce un film con Kevin Hart Volete non far conoscere Kevin Hart A King Ash Vi prego La butto lì io A tutte le agenzie creative Se sono qua Io sono qua No E poi magari uno dei big Altri È sicuramente Mr Beast Che è stato il primo Ad ispirarmi a fare Quello che io faccio Davvero Sì perché io ho visto Nelle sue cose L'aiutare gli altri Che comunque Sempre è stata quella cosa Che io volevo fare Anche fatto con Medicina Con questo Con l'altro È sempre stata quella cosa lì Però lui l'ha veramente fatto Sì Perché comunque sì Lo pensi Però poi devi farlo A un certo punto C'è una Se ti farà piacere Non faccio il nome C'è una persona Un amico Che ti ha paragonato A Mr Beast Quindi se questa cosa Ti lusinga Non faccio il nome Ma se lui vorrà Te lo dirò Va bene O te lo dirà lui stesso Se non te l'ha già detto Non lo so Va bene Però infatti io dicevo Ma come Perché dici Perché invece io vi vedevo Un po' Come due cose diverse Oppostissime E invece ci sono evidentemente Dei fili conduttori In comune Questa è la dimostrazione Mi piace Non so come dirtelo Cazzo una persona Che spende 10.000 euro 10.000 dollari Per fare quel set Di Squid Game No Squid Game Ha speso 3 milioni di euro 2 milioni di dollari Sì 3 milioni di dollari Però il fatto che comunque Poi lui fa tutto quello E poi va a finire Che poi le regala Da una soddisfazione Di un'altra persona Da questo Dall'altro Da questo E in Italia secondo te Si riesce a fare questa cosa Perché poi l'Italia È un paese particolare Non riusciamo a dare La cittadinanza a te Voglio dire Crescere da questo punto di vista Può essere Può essere complicato Secondo me Sono solo delle barriere mentali Non so come dire Secondo me Secondo me lo fai Cioè se una persona Lo vuole fare Lo fa Cioè poi ovviamente Non sto a dire Ah no cazzo Lui perché non l'ha fatto Lui perché non l'ha fatto Ognuno c'è la sua vita Ognuno c'è le sue scelte Io Ovviamente non farò Le cose che fa Mr. Beast Mai nella vita Però Mai dire mai Mai nella vita Nel senso Quando le faccio a modo suo Le farò a modo suo Se non mi metto A dire Ah sì Se tocchi questa cosa Te la do Non è mio Non riesco a farlo Però comunque Sono dei punti di ispirazione Perché tu comunque Impari Da quelli che Ce l'hanno fatta Ma perché hai ripartito Con il discorso De The Show No The Show Allora C'è ancora questa cosa Salutiamo Tanto dovranno passare Di qua a breve E infatti Quando siamo arrivati Mi ricordo All'anteprima Di Questa di Dr. Strange Di cui parlavamo prima Vi siete incontrati Per la prima volta Tu sei sceso Qualcuno è sceso Sì sono sceso Dalla macchina E poi E te li sei trovati davanti Sì no ma allora Il fatto Io l'ho sempre detto Ma l'ho detto anche In alcuni video Non è Io Non è che li odio Mi fa ridere Come ho preso Di The Show Potevo prendere qualcun altro Ma perché mi fa ridere Poi mi avevano fatto Tra virgolette Una specie di Scherzo Una volta Con Luis E quindi poi I fili Si sono connessi E quella volta Per il caso Mi è venuto in mente The Show Ma così Ma fa molto ridere Quando ti presenti Come Alessio Stigliano Alle persone Ma poi le persone Quelle cose così Che butti lì al momento E che saluti E hai altre reference In cui Piacere Alessio Poi le persone ci credono Come fai a credere Che io mi chiami Alessio Ma se non ti conoscono Puoi chiamarti anche Alessio No ma non puoi Come faccio a guardarmi Ma come Tu guardami un attimo Non puoi chiamarmi Alessio Mi chiami Non so Yusuf Mahmood Ashra Qualcosa No non Alessandro Giulio Francesco Non puoi Alcune volte mi faccio Luigi Calani Qual è la cosa più assurda Che hai fatto secondo te Fino adesso Nei tuoi video La cosa più assurda Che ho fatto È stata La maratona Ah beh Quello è vero Fa molto ridere Sì è stata la maratona Ti sei imbucato Nella maratona di Milano Sì all'incirca Sì è stata la cosa più Tra virgolette Più contro la legge Forse No 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 Perché in effetti Comunque Ho fatto Cioè ho fatto Certe cose Che comunque Non andavano a disturbare niente Non andavano a fare niente Però è stato È stato figo Cioè è stato bello Mi è piaciuto Però poi non voglio essere Ti sei imbucato In realtà Sulla parte finale Cioè ci sei tu Sulla televisione Sulla Rai Che tagli il traguardo Con un Kenyota Tipo Con un Che poi Era il cosa Che tutti avranno pensato Ragazzi Guardate questo ragazzo Che vuole manifestare Contro il surriscaldamento globale E invece No Dele show No Era lì No La plastica No Era lì per un'altra cosa Poi ci sarà anche un modo Di farlo Perché sicuramente L'inquinamento No Facciamo parte del tuo video Sarebbe stato Strano il contrario Non avrebbe avuto Un po' Oggettivamente Sarebbe stato strano Sarebbe stato strano Il contrario Degli altri Creator italiani Con cui ti piacerebbe Fare cose Vabbè come ripeto Frank L'hai detto Frank Matano Sì Con lui vi siete scritti O ti ho solo commentato Non ho solo commentato Ti ho solo commentato Sfere basta Addirittura musicale Non Collaborazione No no Fare un video Conoscerli 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 Comunque mi piace la storia Mi piace tutto quello che è Il sempre rinnovarsi Non so come dire Il sempre cercare qualcosa Perché comunque Sfere basta C'è da tanto Però ogni volta che fa qualcosa È sempre nella top Ti piace quindi Ascolti Sì Allora non sono uno che dice Sono un fan Mi piace Mi piace più La storia Come ci è arrivato Come ci ha fatto Come ha fatto Come ha fatto questo E secondo me Lui Per quello che sta facendo adesso Perché non ha smesso Cioè ha avuto quella cosa Che dice Cazzo Ok Ma ha fatto questo per un anno Ha fatto questo per due Per tre Per quattro Per cinque Però poi È sempre Lì Nei top Riesce sempre a trovare quelle cose Poi adesso è anche Internazionale È figo Mi è piaciuto Ti è piaciuto Come comunicazione Poi sicuramente è forte Quindi può essere È molto forte Sì no È molto forte Ma anche semplicemente Te l'ho detto Avere una chiacchierata A me piace un sacco parlare Sì sì Avere una chiacchierata Per me È stramotivazionale Cioè io Ti ispira Odio i messaggi Ma io credo che può essere Di grande ispirazione Anche A parte vabbè La chiacchierata Che stiamo facendo Tra di noi Che a me personalmente Sta piacendo molto Ma spero anche Magari qualcuno Dato che tu scherzi Anche tanto Su Le tue origini Sulle tue Sui Quelli che possono essere Dei difetti anche Anche sul tuo aspetto Tu ci scherzi molto Invece c'è tanta gente Che ha grande paura Di questa roba Non ne parla Non l'affronta A volte magari Vedere te Che ironizzi Su questa cosa qui Non vuol dire Che non prendi sul serio La cosa Ma che la tratti Come tutte le altre Quindi magari Tanta gente Anche sentendo Perché uno Se vede uno dei tuoi video Non penserebbe mai Che c'è la storia Che mi hai raccontato Fino adesso Di te Di quello che fai Di quello che vuoi fare Quindi boh Può essere veramente Tanta roba Tu ti senti che Qualcuno ti segue Anche per questo Perché Rappresenti qualcuno Allora io Spero che le persone Che mi seguono Mi seguono per questo Io non voglio essere La persona Che fa Come te lo posso dire Il video della maratona Sì va bene Però non voglio essere Il ragazzo Che ha fatto il video Della maratona Io non voglio essere Quello Io voglio essere King Ash King Ash Da dove arriva il nome? King Ash Che sono le prime Tre lettere del mio nome Il tuo nome è vero? È segreto? Bah Non so se qualcuno lo sa Davvero? Ashraf Ashraf Sì Ashraf è il tuo nome È il mio nome Ufficiale Cazzo è figo Ashraf È figo È molto figo Cazzo perché Mi nasce una figlia femmina Se no Ashraf Gazzoli Ce l'avevo già Scritto la seconda Vabbè comunque Potresti fare Ashraf è bello Ma ha un significato particolare Ashraf vorrebbe dire Forse Boh Non so Puro Puro d'animo Qualcosa del genere Come significato Anche se non ce la diamogli Questo significato Mi sembra Non so Un multimilionario Beh Ashraf è figo Però Ashraf è figo Però Ashraf mi piace Ashraf non è che dico Oh no che schifo Ashraf Però Ashraf Mi piace È più bello Mi piace Ash È figo E niente Quindi appunto Non voglio essere quello Cioè Quello che fa questo Quello che fa l'altro Sono io Nel senso Che faccio questo Mi metti in una determinata posizione E poi lo faccio Che poi il video faccia 10.000 views Il video ne faccia 100.000 Adesso quanto stanno facendo i tuoi video? Adesso in media Tipo gli ultimi Cioè il penultimo Ha fatto quasi mezzo milione In tipo una settimana Ed è bellissimo Molto bella come sensazione Invece gli altri Ne fanno più o meno 150.000 200.000 Magari in 24 ore Ma tu pensi che Il web sia il tuo mondo? Cioè anche perché mi dici Non guardi la televisione normale Ti piace quella roba lì Tu credi che quello sia il mondo Che più ti rappresenta Anche in futuro Perché ad esempio Io anche a livello di generazione Mi trovo a metà Tra i due mondi Quindi tra il mondo Tradizionale La radio La tv E il web Dove magari stiamo facendo queste cose Faccio tanti altri contenuti E tu invece Te ne frega qualcosa Del mondo tradizionale? Sì Tanto Sì Cioè io vorrei vedere quello E quindi lo vado a fare Ok Quindi che magari poi sia Una cosa già fatta Sia una cosa Che ha fatto questo Che ha fatto l'altro Sì però io la prendo E la faccio mia Sì voglio fare Voglio farlo Voglio fare questo Ora è youtube Nel senso poi Se Dio vuole Se Dio ora Può essere qualcosa Sì sì Vediamo L'importante è essere te stesso L'importante è che io sia Un'ultima cosa In questo momento Immagino ti stiano arrivando Tante proposte Tante cose eccetera C'è qualcosa che non ti aspettavi O che fai fatica a gestire anche La pressione La pressione Sì E poi magari Il procrastinare Ok Quindi magari dire Ah cazzo Voglio fare questo Voglio fare l'altro domani Voglio fare questo Voglio fare l'altro Sì lo faccio adesso No magari lo faccio un po' domani Ma femminile che lo faccio Però ora magari sto dando Più cose Magari al contenuto Si può dire Più spazio è quello Io questa settimana Non ho postato Avevo già tre Quattro video pronti Però non mi piacciono E quindi non voglio metterli Perché se non mi piacciono C'è sempre questa cosa qui Se a me non piace Potrebbe anche Certo E uno di quelli È un video Chiaro Molto potente Ok Molto Sì Che dopo te lo dico Tu mi dici Ma sei un coglione Perché non è ancora postato Eh però Perché c'è qualcosa Che non ti va Non mi piace Ma lo modificherai O proprio quello il video Non lo so Magari lo rifaccio Magari poi lo metterò in futuro Magari vedo un attimo Devo modificare le edite O qualcosa Però non mi piace tanto E quindi Adesso do magari più spazio A quello che è al pensare Che va a finire Però dici Da fuori ti sono arrivate proposte Adesso non mi dire Magari se non puoi dirmene Però di cose che Che dici Cacchio Oppure anche tu ti immagini Anche collaborare Con altre realtà Il tuo personaggio Tra i due dati Si può sposare Anche con tante altre realtà Sì Allora non dicono Per magari Situire uno E aumentare l'altro Perché non sono nessuno Per farlo Però sicuramente sì 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 Sono arrivati magari Qualche Anche semplicemente Messaggi In DM Anche semplicemente Richieste Anche semplicemente E-mail o qualcosa Che va Non so Abbiamo qua Un hermano Che becca tutto lui Adesso Adesso becca tutto lui Che comunque giustamente Anche tu ti sei organizzato Con dei collaboratori E questa è una cosa Che ti può aiutare Io sono fiducioso Del fatto che Io so di non saper fare tutto So di non saper fare anche Niente Cioè nel senso So che c'è questa cosa qui E quindi Vorrei Man mano Creare quella che è La squadra dei Power Rangers Certo Quindi oppure Il maestro scifo Della situazione Beh mi è piaciuto Che quando sei entrato Qui e hai detto Che a te piacerebbe Un domani Avere un posto Fisico Dove fare cose Sì io vorrei tantissimo Forse uno dei miei Obiettivi magari Un pochino Più realizzabili In questo momento No Però magari Un po' In un momento Spero Il più recente possibile Forse avere Uno spazio In cui proprio È dedicato a questo Ok Perché comunque sì Stare sempre Nello stesso posto In cui Tu magari dormi E poi ti svegli C'è la schivania 10 metri dal letto Rimani sul letto E sulla schivania Comunque devi avere Uno spazio Che non ti fa sembrare No cazzo c'è l'oppressione Devo fare questo No Cazzo è figo Carino Questo Quest'altro Però che sia tuo Certo Dentro c'era tutta Una roba super bella Come storia Spero che Insomma sia piaciuta Anche a chi Anche a chi ci ha ascoltato Ci ha visto Va bene Il video più Un giorno fammi fare Una comparsa In un tuo video Surreale Va bene Possiamo fare Io stavo cercando Delle persone Molto carine Molto carine Cos'è il video Mi faccio una nonna Di 60 anni Di 70 anni No Era un rimorchio Ragazzo più carino di Italia Va bene Ti ringrazio Beh va bene Io la prendo comunque Come un grande complimento Bella King Guarda ti rifaccio fare l'applauso Grazie mille Te lo so per chiedere Puoi anche mettere una musica Come che sia Aspetta Vediamo Ok Arrivederci È finita È finita Arrivederci È stato fantastico Sei fantastico Grazie Anche tu